ciao a tutti io sono gianni benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video di unboxing per oggi ho un altro telefono economico piuttosto interessante sto parlando dell'okitel u22 il processore è il solito mediatek 6580 4 core è un processore entry level accompagnato da 2 gigabyte di memoria ram e 16 gigabyte di memoria interna abbiamo inoltre un display ips da 5,5 pollici con una risoluzione di 720p e ben quattro fotocamere due frontali e due posteriori la cosa che rende interessante questo telefono è il prezzo di vendita che si aggira attorno ai 50 euro detto questo cominciamo il video con la confezione di vendita che è la solita che accompagna la maggior parte dei terminali di okitel in colorazione arancio sul coperchio è stampato il logo okitel mentre sul retro sono riportate alcune specifiche tecniche apriamola ecco qui lo smartphone allora la prima impressione è che sia abbastanza pesante cosa un po strana anche perché la batteria è da soli 2.700 mAh quindi non credo che sia questa che lo rende pesante comunque mettiamolo un attimo da parte e vediamo gli accessori abbiamo il solito caricatore da 5 volte un ampere quindi come era prevedibile non abbiamo il supporto alla carica rapida poi abbiamo il cavo usb micro usb per la ricarica e poi due manualetti uno per la garanzia per quanto vale e l'altro invece è un manualetto di istruzioni allora questo è tutto per quanto riguarda gli accessori fatemi rimontare la scatola mettiamola da parte e torniamo al telefono allora intanto abbiamo la custodia in silicone che va benissimo altrimenti probabilmente sarebbe difficile trovarne una data poi qui sul davanti abbiamo già installata la protezione per il vetro c'è ancora vedete la pellicola che si usa per l'applicazione poi anche qui sul retro c'è una pellicola con le istruzioni per rimuovere la cover perché questo smartphone alla batteria rimovibile peccato che sia una cosa abbastanza rara di questi tempi la cover è sicuramente in plastica il telaio invece è in metallo comunque come vi dicevo prima il telefono è davvero pesante qui sul retro abbiamo le due fotocamere che se mi ricordo bene sono una da 8 megapixel e una da 2 megapixel comunque anche questo ve lo dirò con più sicurezza nella recensione completa poi abbiamo il flash e il sensore di impronte sensore che a dire la verità sembra posizionato abbastanza correttamente direi che si raggiunge abbastanza facilmente come vi dicevo il telaio è in metallo e qui sulla destra abbiamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume che sembrerebbero anche loro in metallo poi sulla parte superiore abbiamo l'entrata audio jack da tre e mezzo niente qui sulla sinistra mentre sul fondo abbiamo il microfono lo speaker e la porta usb per la ricarica passiamo alla parte frontale dove qui in alto sulla sinistra abbiamo le due fotocamere anteriori che però non mi ricordo da quanti megapixel siano comunque anche questo lo vedremo nella recensione completa e poi abbiamo il flash adesso per accendere il telefono devo prima rimuovere la cover e togliere la protezione dai contatti della batteria così allora togliendo la batteria il peso diminuisce effettivamente un bel po quindi la batteria contribuisce parecchio poi qui come vedete abbiamo anche gli alloggiamenti per le due sim card comunque adesso se ce la faccio lo richiudo ok non è molto semplice comunque si adesso chiusa vediamo se si accende così se si accende interrompo un attimo la registrazione faccio la prima configurazione e poi riprendo il video quando ho finito ok eccomi di nuovo qua allora ci sono voluti tre o quattro minuti per configurare il tutto iniziamo subito con il display che è da 5,5 pollici che vi dicevo ha una risoluzione di 720p che a prima vista sembra abbastanza luminoso da poter essere visto anche all'esterno forse anche gli angoli di visione non sembrano male comunque anche questi sono aspetti che approfondirà poi nella recensione completa ho configurato anche il sensore di impronti digitali che così a prima impressione sembra abbastanza preciso 8 9 volte su 10 anche se ovviamente non proprio velocissimo comunque dai va abbastanza bene se pensiamo al prezzo di vendita per fortuna non ci sono molte app installate niente app cinesi o altra roba strana e questa è sempre una buona notizia abbiamo però tutti i servizi di google al momento come vedete non ci sono aggiornamenti ma anche queste sono cose che approfondirò poi nella recensione completa adesso passiamo un attimo alla fotocamera anzi alle fotocamere come vi dicevo ne abbiamo ben quattro due frontali e due sul retro normalmente però queste fotocamere sono più un gioco di marketing e in realtà non servono niente tutti gli effetti che si ottengono che sia lo sfocato o il bianco e nero sono tutti realizzati a livello software ad ogni modo a prima impressione lo scatto sembra abbastanza lento e le foto mediocri dai siamo buoni diciamo così comunque approfondirò anche questo aspetto poi nella recensione completa adesso però interrompo il video per l'ultima volta così installo antutu e geekbench in modo da vedere i risultati di questi benchmark ok eccomi di ritorno con i risultati che ovviamente sono abbastanza bassi ma in realtà era quello che mi aspettavo visto il processore mediatek 6580 dai niente di nuovo da questo punto di vista siamo in linea con quanto abbiamo già visto sui telefoni che avevano lo stesso processore va bene direi che per oggi può bastare come prima impressione il telefono è abbastanza pesante come buona parte degli occhi tel il display è sufficiente però abbiamo delle discrete cornici che al giorno d'oggi sono un pochino fuori moda questi che vedete sono alcuni esempi di fotografie che ho scattato qui nello studio ma in ogni modo queste come vi ho già detto sono tutte cose che tratterò nella recensione completa che pubblicherò tra qualche giorno dopo aver avuto la possibilità di provare il telefono per una settimana come sempre vi ricordo che qui sotto trovate il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale ci vediamo alla prossima ciao da Gianni